Il 28 novembre del 1943 a Teheran in Iran si incontrano per la prima volta gli alleati accomunati dalla volontà di sconfiggere il nazifascismo, Stalin, Churchill e Roosevelt. I tre non si amavano, non si erano mai incontrati assieme, Churchill sospettava di un'intesa privilegiata fra Roosevelt e Stalin, Stalin temeva in un grande inganno anglo-americano contro di lui, all'inizio ci furono tanti sospetti, ma poi prevalse un'unica e granitica convinzione, solamente assieme le grandi democrazie dell'Occidente e l'Unione Sovietica avrebbero potuto sconfiggere la bestia nazista e così fu.